Dovresti tenere dentro la lingua per fare lo sbiancamento. La volta scorsa hai detto queste esatte parole. Tieni la lingua fuori. No. Dovrà respirare, Claire. Ho detto di tenere la lingua fuori dal mio spazio. Dovrà respirare, Claire. Pare che qualcuno qui ha molta fame. Chi è che diventa scontrosa quando ha fame? Sei un tantino affotica, Claire. Non sono affotica, Tito. Affamata e neurotica, sei affotica, Claire. 60 secondi di silenzio perché il trattamento dura 60 secondi. Sei tu quella che parla, Claire. No, sei tu quella che parla. Troppo divertente. Mi ricorda una scenetta di quel duo comico. Quello? Quello è sul campo da baseball. Non quello. Chi è sul campo da baseball? Chi è sul campo da baseball? Chi è sul campo da baseball? No, era... Chi è sul campo da baseball? Credo che c'è... Chi è in prima? Quale in seconda? In terza non lo so. Giusto? Non credo. No. Sei sicura? Io credo che sia sul campo da baseball. Chi è sul campo da baseball? Prima fase. Prima... Prima fase.